ragazzi guardate che taglio via macca boia ma ci sta questo detto che sta lì di parecchio attraverso l'antena sopra lì me la ricordo ottimo ma sei sicuro di dove stiamo andando assolutamente sì ok perché ti vedevo un po in dubbio sai che poi io devo mettere devo mettere tutto online qui è quindi stiamo andando dove ai monti di torricella giusto questo palo me lo ricordo vabbè dai toccheremo un cancello se lo indocchiamo vuol dire che è giusto un cancello dai ora ci vediamo al passaggio oggi la mia guida e non so dove dove mi sta portando perché dice sì sì è giusto è giusto però io che lì si ricorda non lo vedo convinto e vabbè a dite storno indietro assolutamente ma guarda dove siamo siamo alti guarda quanti chilometri infatti fino adesso mica tanti e vabbè di salita però 7,5 chilometri di salita eh sì praticamente sì dai dice che è giusto ci vedi andò e poi ci riferanno altri perfetto quello lì è una cosa che è un dettaglio che mi ricordavo quasi arrivati però vabbè non mancherà tanto c'è però un bel pezzettino sì ma è tutto così tutto così non ci sono strappi non ci sono strappi no è tutto un po' falliscendi adesso giriamo intorno alla montagna infatti vedrai saremo vicinissimi al Tamaro cioè vicini si ha dai vicini nel senso lo vedi molto bene l'antenna del Tamaro sì sì ecco comunque abbiamo fatto fuori due tacche di salita cioè per farti capire ne abbiamo fatte di salita fin qua eh è vero ma io vedo scusa che scendevo e poi non pedalava 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 sì sì no è giusto è giusto Michele sì sì bello eh scusa che mi giro puoi fermarti se lo vuoi no no solo un attimino cazzo guarda qua pronto siamo passati da va ci ha azzeccato mi ha portato al posto giusto siamo dove siamo siamo molti di sigilino sopra sigilino e abbiamo fatto fuori due tacche per arrivare eh sì allora vedi acquedotto di Lugano sì ma dove è questo sentiero ecco ecco ci sono già persi no no bravo ma era indicato di qua no guarda sugli alberi eh non vedo niente non cavolo no猿 adesso oh Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tu buchi poi? Non è possibile. Vai all'URD. Pumpe, pumpe. Grazie a tutti. Pumpe, 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 pumpe. Pumpe, pumpe.